Immaginate un viaggio nel tempo, fino a un'epoca molto anteriore alla comparsa dell'uomo, fino a 65 milioni di anni fa. Viaggiando, assistereste a enormi mutamenti, del clima, della vegetazione, della configurazione stessa della crosta terrestre, con il formarsi delle catene montuose dalla collisione dei continenti. Siamo approdati a un periodo molto importante nella storia della Terra, il Cretaceo. È un mondo totalmente diverso. L'Himalaya non esiste ancora e l'Atlantico è largo la metà. Non c'è traccia d'erba, solo foreste di conifere e distese di felci. È il regno dei dinosauri. Rettili di 5 tonnellate, come il tirannosauro, incedono minacciosi. Vi mostreremo come vivevano queste maestose creature, come si nutrivano, lottavano e si riproducevano. E vedremo come le forze della natura abbiano cospirato per portarli all'estinzione. Ma risaliremo ancora più indietro nel tempo. Qui siamo nel Giurassico, il periodo in cui la vita sulla Terra assunse le sue forme più spettacolari. Le creature sono immerse in un tiepido clima tropicale, i poli sono privi di calotte, i fiori e le latifoglie non hanno ancora fatto la loro comparsa. I cieli e la Terra sono dominati dai rettili e i più diffusi fra questi sono di gran lunga i dinosauri. Ma i dinosauri non sono gli unici giganti. Enormi pterosauri dominano i cieli e sotto di loro imponenti rettili marini predano i ricchi oceani. Andremo però ancora più lontano nel tempo, fino a scoprire l'origine dei dinosauri. Così si presentava la Terra nel Triassico. Non vi sono continenti separati, ma un'unica gigantesca massa chiamata Pangea. E' un luogo aspro, coperto di deserti. Il Triassico ha già visto avvicendarsi molte varietà di rettili primordiali, ma ora da questo deserto desolato nasce qualcosa di rivoluzionario. Una famiglia di rettili destinata a determinare il corso della vita sulla Terra per i successivi 160 milioni di anni. Sono i primi dinosauri ed è qui che ha inizio la nostra storia.